portatile per usarla dove e quando vuoi elegante per la tua bella casa elettrica per essere più efficiente olivetti per scrivere meglio per scrivere senza fatica sul giusto numero di copie per scrivere senza errori per scrivere rapidamente la portatile elettrica che aggiunge efficienza alla tua bella casa olivetti lettera 36